Grazie per essere qui con me, il mio nome è Luca e l'obiettivo della presentazione è quella di condividere quelle che sono le caratteristiche e i benefici della chirurgia navigata. Quello che farò in questa presentazione è presentarvi il flusso di lavoro digitale della chirurgia navigata, un po' di storia e darvi due dimensioni, quali sono le ragioni della chirurgia navigata e come questa funziona da un punto di vista clinico e chirurgico. Innanzitutto partiamo dall'idea che stiamo lavorando con i DICOM del paziente, quindi è necessario avere una COMBIM del paziente e quindi è necessario importare sul software di progettazione i dati DICOM e dell'anodomia del paziente ma anche i file STL che in qualche modo raccolgono le informazioni protesiche del paziente. La caratteristica della chirurgia navigata è quella di permettere senza soluzione di continuo, subito dopo che il piano di trattamento è stato condiviso ed accettato dal paziente, un atto chirurgico guidato, ma appunto guidato senza una DIMA chirurgica. La freccia indica come la DIMA chirurgica di fatto sia alla base di due approcci implanto protesici che sono di ormai comune applicazione, da una parte la robotica e dall'altra parte la realtà aumentata. Il Navident e la chirurgia navigata in questo senso appartiene proprio all'approccio della realtà aumentata. Da un punto di vista storico la guida statica, la guida di chirurgia navigata viene presentato agli inizi di questo secolo. Per un certo periodo di tempo questo approccio viene abbandonato e poi a partire dal 2016 viene ripreso in modalità stabile e continuativa fino ad arrivare addirittura a una quarta generazione di navigatori a partire dal 2023. Il digitale ha rappresentato una grande rivoluzione nell'approccio implanto protesico e sostanzialmente ha in qualche modo migliorato la qualità del lavoro attraverso la presenza delle con BIM che quindi hanno permesso lo studio tridimensionale del paziente fino ad arrivare a dei software CAD specifici per la progettazione che prevedevano non solo lo studio anatomico del paziente ma univano all'anatomia del paziente anche la realizzazione protesica ideale per le condizioni anatomiche del paziente e poi prevedevano appunto una progettazione di una dima chirurgica e confezionamento da parte di un soggetto terzo o di una stampante 3D di una dima chirurgica statica e quindi dall'approccio della chirurgia statica si è arrivati successivamente all'introduzione degli scanner interorale che sono ormai diffusi negli studi odontoiatrici ma anche un altro aspetto digitale importante è stato rappresentato da appunto l'articolatore virtuale che ha permesso lo studio del caso da un punto di vista protesico ma attraverso la sua digitalizzazione ha permesso anche e ha reso più facile la comunicazione con il clinico e quindi in qualche modo ha reso la qualità del lavoro protesico più in qualche modo predecibile per dare chiaramente come risultato finale una soluzione protesica che sia estetica e funzionale per il paziente. Ora perché parliamo di chirurgia navigata? Perché di fatto la chirurgia navigata ha sostanzialmente sviluppato tutta una serie di contributi digitali portandoli a una fase 4.0. possiamo dire cioè si è partiti dalla pianificazione del caso fino appunto ad una possibilità di applicare l'intelligenza artificiale proprio nel caso specifico cioè nella parte di segmentazione e di studio anatomico del paziente si è partiti appunto dalla dima chirurgica ma si è arrivati ad una soluzione in cui la chirurgia guidata viene guidata non più da un prodotto fisico quello appunto della dima ma viene guidata direttamente dalle immagini si è passati dall'uso dello scan interorale per prendere le impronte su arcate totali alla possibilità di applicare l'approccio di fotogrammetria proprio della chirurgia navigata nella definire in modalità molto precisa la posizione post chirurgica degli impianti si è partiti dall'appunto articolatore virtuale fino allo studio della articolazione dinamica del paziente. Ora la caratteristica nella chirurgia navigata è quella di permettere tutti questi approcci appunto in un unico dispositivo dispositivo che ha le caratteristiche tecnologiche e quindi ha la possibilità di coniugare tutti questi ambiti attraverso l'uso di un unico strumento di lavoro che è tra l'altro un strumento di lavoro con un'applicazione versatile sia nell'ambito della chirurgia orale ma anche nell'ambito dell'endonuzia e nell'ambito dell'ortonuzia quindi ha permesso un'integrazione non solo da un punto di vista orizzontale di quello che è il flusso di lavoro digitale ma ha permesso anche un'integrazione di tipo verticale e la fotogrammetria ha le caratteristiche di aggiungere valore per esempio nell'ambito proprio delle impronte su arcate totali. Questo è uno studio pubblicato dai dottori Arcuri Pozzi e Lio che è uno studio in vitro che mette in evidenza come nell'uso dello scanner intraorale su intere arcate si possa arrivare fino a 0,5 mm di errore. Per quale motivo una tecnologia come lo scanner intraorale ha la possibilità ancora di avere questo tipo di errori perché chiaramente è una tecnologia che ha delle caratteristiche specifiche di funzionamento. Noi vediamo a destra l'immagine di uno scan body e in alto vediamo lo stesso scan body reso dallo scanner intraorale. Quindi lo scanner intraorale emette fotoni, questi fotoni colpiscono un volume e i fotoni poi tornano nella sorgente di emissione aumentando il volume dell'oggetto. Quindi lo scan body ha un volume più grande. Quindi quando si va a registrare l'abatment della libreria CAD su uno scan body più grande dal punto di vista di volume possono esserci errori di registrazione. Questa tipologia di errore non esiste con la fotogrammetria perché la fotogrammetria non emette fotoni ma invece percepisce, raccoglie fotoni e permette di posizionare gli oggetti che in qualche modo sono costituiti da target ottici, cioè sono elementi ottici che la fotogrammetria riconosce e posiziona nello spazio. L'origine della chirurgia navigata è un'origine che prevede appunto, stiamo parlando della fine del secolo scorso, un approccio militare di posizionamento di un mirino su un oggetto in movimento con la possibilità di tracciarne tutti i movimenti e poi l'altro elemento importante è la possibilità non solo di tracciare il movimento ma di posizionare nello spazio l'oggetto identificato. Queste applicazioni per prima vengono effettuate in ambito di neurochirurgia per cui è l'applicazione principe iniziale, immaginatevi che prima di questa applicazione i neurochirurghi aprivano il cranio e quindi lavoravano a cielo aperto e quindi l'uso invece della chirurgia navigata e l'uso di strumenti minimamente invasivi ha sostanzialmente ridotte le complicazioni in ambito chirurgico e quindi in ambito odontoiatrico la presenza della chirurgia navigata risale ai primi di questo secolo e attraverso l'uso di uno strumento che prevedeva due sensori che emettevano una luce infrarossa quindi invisibile all'occhio che colpiva dei quarsi posizionati sul paziente e sullo strumento di lavoro questi quarsi riflettevano il segnale dietro direttamente ai due sensori che quindi permetteva questo spazio di tempo, questo spazio di tempo prima ricavato dalla misurazione della registrazione del segnale di ritorno. Questo approccio che è il primo approccio della chirurgia navigata a un certo punto viene abbandonato. Siamo agli inizi del 2000, io ricordo due date per dare un po' la dimensione delle epoche digitali se pensiamo che Facebook del 2004 e nel 2007 nasce il primo iPhone quindi l'iPhone 1 questo approccio per una serie di condizioni anche tecnologiche è un approccio molto innovativo ma che incontrava dei limiti sia a livello hardware che a livello software. Quindi solo successivamente stiamo parlando di 2016 si arriva alla identificazione appunto di un approccio a questo punto non più utilizzando dei segnali che vengono emessi ma due telecamere che leggono i feutoni che partono da delle scacchiere, scacchiere che vengono montate una sul manipolo e quindi sullo strumento chirurgico e una sul paziente. Queste scacchiere bianche e nere di fatto emettono fotoni, questi fotoni vengono letti dalle due telecamere, il software sovrappone la posizione nello spazio di questi due elementi e cioè l'anatomia del paziente e la posizione nel mano del chirurgo sovrappone queste due informazioni sulle informazioni della Combim 3D e quindi permette di tracciare i movimenti del paziente e dello strumento chirurgico che viene utilizzato in quel momento. Questa è la rivoluzione della chirurgia navigata che in buona sostanza è un mirino, noi vediamo a sinistra un mirino il cui centro è l'asse dell'impianto che il chirurgo ha progettato e poi quindi ha determinato come soluzione chirurgica in quanto protesica per il paziente. Una volta che il chirurgo ha fatto la sua progettazione e ha identificato il piano di trattamento ecco che senza soluzione di continuo può arrivare all'atto chirurgico e dovrà mantenersi con la sua fresa al centro di questo mirino. Il centro di questo mirino è l'asse dell'impianto che è stato progettato e si troverà in una posizione come vedete a ore 12 quindi la posizione operatoria può variare da ore 11, 12 o ore 13 guardando lo schermo del computer perché lo schermo del computer attraverso la sola posizione delle immagini che effettua il software sulla Combeam permetterà al chirurgo una visualizzazione in tempo reale di quello che è l'atto chirurgico. Come funziona la chirurgia navigata? Innanzitutto funziona con una fase essenziale che tecnicamente prende il nome di registrazione. Che cos'è la registrazione? La registrazione è quel processo che ci permette di validare una Combeam e di verificarne la corrispondenza con l'anatomia del paziente. Questa analisi preliminare della Combeam è fondamentale per poi andare a lavorare su quella Combeam sapendo che l'anatomia del paziente è fedelmente rappresentata da quella Combeam. Ebbene ci sono due tecniche di registrazione. Una prende il nome di impression registration che utilizzerà sostanzialmente l'uso di un dispositivo radiopaco che verrà inserito in bocca al paziente durante la fase della scansione con BIM e l'altra tecnica che prende il nome di tracing che permetterà prima dell'atto chirurgico di andare a mappare un tripode presente nella anatomia del paziente sia esso naturale quindi come può essere lo smalto o sia inserito dal chirurgo come delle mini viti di ostiosintesi permetterà appunto di andare a scansionare questi elementi per poter mettere in condizione il software di fare la registrazione dei volumi scansionati con i volumi che lui trova direttamente andando a leggere i dati della Combeam. Ma appunto andiamo con ordine e vediamo appunto come materialmente lavora la chirurgia navigata. Quindi abbiamo detto che c'è un atto iniziale che è quello della scansione del paziente quindi della Combeam. Questa Combeam viene scansionata a seconda delle due tecniche di registrazione o avendo in bocca al paziente un elemento radiopaco che poi andrà a essere registrato automaticamente dal software oppure facendo una Combeam standard mantenendo semplicemente le due arcate separate. In ogni modo il pacchetto delle Combeam, dei DICOM della Combeam viene importato direttamente nel software di progettazione presente nel sistema di navigazione e quindi vengono caricate le informazioni anatomiche del paziente. Dopo appunto aver caricato i dati il clinico accede ad una libreria geometrica degli impianti. La libreria non è morfologica ma è geometrica perché in questo caso l'impianto non deve passare attraverso una dima chirurgica e quindi avere delle caratteristiche specifiche ma essendo posizionato a mano libera è sufficiente avere due informazioni importanti che sono la lunghezza dell'impianto quindi avere un'asse di inserimento di quell'impianto e quindi l'apice dell'impianto stesso cioè dove questo asse termina. Queste sono le due informazioni su cui si lavora in chirurgia navigata. Quindi il clinico cosa fa? Non fa altro che posizionare in questo caso la geometria di un impianto appunto sul volume d'osso e questo è un impianto troncoconico nel caso specifico. In questo caso non c'è necessità di aggiungere preliminarmente una corona in quanto la progettazione è su un impianto post-estrattivo e quindi sostanzialmente esiste già una corona che fa da riferimento protesico per il posizionamento dell'impianto e una volta che questa progettazione è terminata occorreranno in qualche modo una serie di target ottici che dovranno essere posizionati sul manipolo quindi sullo strumento di lavoro e sul paziente. Sul manipolo viene posizionata una scacchiera attraverso un anello attraverso quindi un adattatore universale che permette di posizionare questa scacchiera a 360 gradi non solo sul contrangolo chirurgico ma anche sulla turbina piuttosto che sul manipolo dritto piuttosto che sul manipolo piezo e quindi permette in questo modo una versatilità di utilizzo e poi abbiamo detto una scacchiera direttamente sul paziente. Questa è la scacchiera che non è altro che un casco che permette di andare a monitorare il movimento del superiore in quanto la scacchiera si posiziona nella zona frontale della fronte appunto e quindi il movimento della fronte è seguito dal movimento del superiore quindi in qualche modo nella mascella non viene inserito fisicamente nessun target ottico viceversa per quanto riguarda la mandibola che invece è libera possono essere utilizzati tre tipologie di target ottici B, C e U se il paziente edentulo viene fissato con questa placchetta con tre mini viti direttamente sulla mandibola edentula se invece esistono dei denti naturali si può utilizzare questo target ottico con questo cavo metallico che dovrà essere chiaramente sagomato per bypassare la lingua del paziente ma viene utilizzato il flow e il composito per andare a fissarlo in bocca piuttosto che se invece abbiamo del metallo ceramica in bocca al paziente viene utilizzato questo target ottico che termina con una U sulla quale viene metto del materiale da registrazione siliconico viene quindi fotopolimerizzato e quindi permette ancora una volta di fissarsi sulla mandibola del paziente e di tracciare i movimenti del paziente poi appunto abbiamo visto che nella fase della registrazione con tastatore si utilizza proprio un tastatore questo tastatore non è nemmeno che uno scanner a contatto anche lui ha delle scacchiere e termina con una punta quindi le due telecamere leggono le scacchiere percepiscono quindi la presenza di un tastatore non più di un contrangolo e io posso utilizzare questo tastatore nella tecnica di registrazione appunto che prende il nome di tracing posso utilizzarlo per andare a mappare di un tripode di volumi quindi nel caso di un paziente appunto dentulo cercherò il tripode e quindi avrò i due molari quello di sinistra o di destra o i premolari o i canini e poi andrò a cercare appunto gli incisivi attraverso questa mappatura il software appatura che viene eseguita dall'operatore una volta che questa mappatura viene eseguita dall'operatore il software registra questa mappatura sul rendering 3d del paziente e quindi effettua questa fase iniziale di registrazione che ripetiamo essere molto importante perché qualifica la combina del paziente come qualitativamente buona perché rispecchia fedelmente l'anatomia del paziente quindi nella fase chirurgica applicando come tecnica di registrazione appunto la tastatura o il tracing cosa facciamo abbiamo detto andiamo a mappare potenzialmente un tre volumi in questo caso mappiamo appunto il premolare di testa l'immagine incisale e il canino andiamo cioè a disegnare il volume di questi tre elementi dentali e questi volumi appunto vengono registrati dal software quello che il software fa non lo vediamo da un punto di vista pratico ma lo vediamo in questa rappresentazione vediamo una nuvola di punti azzurri che sono stati costruiti intorno ai volumi di questi elementi dentali questi puntini non sono altro che il volume che ha registrato l'operatore e il software non fa altro che registrare il volume dell'operatore con il rendere in 3p del paziente questa tecnica di registrazione prende il nome di tracing e può essere eseguita qualche minuto prima dell'atto chirurgico e quindi in questo caso come vediamo il paziente ha fatto una combina standard non aveva nulla in bocca non aveva degli elementi radiopachi in bocca l'unico elemento distintivo è la separazione delle due arcate in modo da avere la dimensione verticale e il volume del dente chiaro perché questi volumi vengono appunto mappati dall'operatore e il software va a registrare i volumi mappati direttamente sul rendere in 3d del paziente prima dell'atto chirurgico il chirurgo esegue quello che è un test fondamentale che prende il nome di accuracy check cioè in cosa consiste? una volta che lui ha fatto tutte le operazioni di calibrazione con la punta della fresa va a toccare un repere anatomico evidente in questo caso la cuspide di un dente se c'è una congruenza tra quello che lui fa in bocca al paziente e quello che lui vede rappresentato dalle immagini direttamente del laptop se c'è questa congruenza vuol dire che il sistema è preciso e quindi può iniziare l'ostiotomia viceversa se c'è un'incongruenza vuol dire che c'è un errore e quindi l'operatore sa di dover andare a correggere questo errore questo è l'elemento chiave che differenzia la chirurgia dinamica dalla chirurgia statica e cioè prima dell'atto chirurgico l'operatore è sempre in grado di controllare la qualità del lavoro in altre parole nella chirurgia statica una volta fissata la dima chirurgica e posizionati gli impianti si toglie la dima chirurgica e si vede il lavoro effettuato nella chirurgia navigata questo controllo di qualità avviene a monte prima ancora di iniziare l'ostiotomia l'operatore tocca un repere anatomico e ci deve essere congruenza quando questa congruenza c'è il test è positivo e lui può andare avanti con l'ostiotomia un'ostiotomia che lui visualizzerà sempre in tempo reale è evidente quindi la qualità e la precisione che questo approccio permette all'atto chirurgico qual è l'altra tecnica di registrazione? abbiamo detto il tracing che abbiamo visto essere posto in essere attraverso il tastatore ma un'altra tecnica prende il nome di impression registration in cosa consiste? beh, si fornisce un wafer termoplastico nella forma appunto di un rettangolo termoplastico su cui sostanzialmente si utilizzerà un phon per ammorbidirlo creare una chiave occlusale sul paziente e posizionare questo dispositivo radiopaco è un dispositivo che ha dei cilindri in titanio e questo dispositivo viene posizionato in bocca al paziente prima di fare la combim quindi il paziente fa la combim con il dispositivo in bocca quando sostanzialmente si andrà ad importare il dataset del paziente la registrazione sarà una registrazione automatica sarà il software a riconoscere questi cilindri in titanio e a registrarli sul rendering 3D di lettura della combim quindi l'operatore non deve fare nulla in termini di registrazione perché questa registrazione viene posta in essere direttamente dal software il giorno della chirurgia questa chiave occlusale che è stata costruita si rimette in posizione e poi su quella si posiziona appunto un target ottico e quindi appunto da qui inizia la fase chirurgica fase chirurgica che sostanzialmente vede l'uso di un dispositivo che prende il nome di calibro questo calibro come vedete ha dei punti 1, 2 e 3 attraverso l'uso dello strumento chirurgico il contrangolo, la fresa o quant'altro e il posizionamento di questi strumenti su questi numeri si arriva appunto a comunicare al software sia la tipologia di strumento che sto utilizzando per esempio il contrangolo sia la lunghezza della fresa che sto utilizzando per esempio una fresa di 12-15 mm queste informazioni vengono comunicate utilizzando questo dispositivo per esempio se io devo comunicare appunto l'angolo del contrangolo che sto utilizzando abbiamo detto che noi andiamo ad utilizzare un dispositivo, un adattatore sul mio contrangolo quindi non c'è un contrangolo dedicato nell'utilizzare la chirurgia navigata ma il mio contrangolo viene dotato di un anello appunto di adattamento delle scacchiere che poi andranno a essere lette dalle delle camere quindi cosa succede? andrò a inserire il mandrino all'interno di un perno e farò una rotazione di un quarto di giro il software mi calcolerà i 360 gradi e quindi mi calcolerà l'angolo del mio contrangolo dopodiché andrò a posizionare la mia fresa e attraverso ancora una volta il calibro e posizionando la fresa sul punto numero 2 qui c'è praticamente una piccola fossetta dove andrò a posizionare la punta della fresa il software calcola la lunghezza della fresa quindi non la lunghezza di lavoro ma la lunghezza della fresa quella che io ho montato sul manipolo in modo da tenerla presente in quello che è l'atto chirurgico e quindi dopo questa fase di calibrazione ancora una volta andremo a fare un test di accuratezza che ci permetterà di vedere una congruenza tra quello che noi facciamo e quello che noi vediamo direttamente dallo schermo del computer quando c'è questa congruenza andiamo avanti e ancora una volta sappiamo che il sistema è preciso inizia la nostra chirurgia l'atto chirurgico e abbiamo detto che l'atto chirurgico questa è la schermata che noi vediamo durante l'atto chirurgico è costituita prevalentemente da un mirino il cui centro abbiamo detto essere l'asse dell'impianto che il chirurgo ha progettato sulla destra di questo mirino c'è un vettore verde e c'è un numero che via via decresce questo 8.1 non è altro che la distanza che c'è tra la punta della fresa e l'apice dell'impianto che è stato progettato a questo punto vedremo nel momento in cui il chirurgo va avanti con l'ossiotomia ridursi questo numero fino a diventare zero cioè fino a quando il clinico è arrivato all'apice di questo impianto e quindi cosa deve fare il clinico beh innanzitutto deve controllare le due correzioni una correzione è lineare e cioè la punta della fresa deve essere sull'asse dell'impianto e quindi sul centro del mirino l'altra correzione è una correzione angolare e cioè il mandrino cioè la testa del contrangolo deve essere perpendicolare all'asse implantare e questa correzione angolare è rappresentata da una proiezione di un cono su un piano in questo caso se noi dobbiamo andare a leggere questo mirino ci rendiamo conto che la punta in questa cartografia che è appunto rappresentata dal mirino si trova a destra R sta per right quindi abbiamo right poi sinistra, destra, sinistra anteriore e posteriore la punta in questo caso specifico si posiziona nella zona posteriore destra del paziente e questo lo vediamo anche rappresentato da queste due immagini radiologiche vediamo una punta effettivamente nella zona linguale e vediamo un'inclinazione che appunto va verso sinistra la punta sta nella zona posteriore e destra ma l'angolo di proiezione è a sinistra quindi cosa deve fare il clinico? il clinico deve riportare lo strumento nella sua verticalità e perpendicolarità rispetto all'asse quindi le due correzioni ripeto sono sia lineari che angolari la fresa al centro e l'angolo perpendicolare e quando sta in questa posizione inizia la sua osteotomia come vedete in alto a sinistra abbiamo anche dei valori numerici ci dicono che l'errore in questo caso è di 0,2 mm cioè stiamo a 0,2 mm dal centro di questo target abbiamo un errore angolare di 0,2 gradi e abbiamo una distanza rispetto all'apice dell'impianto che è stato progettato dal chirurgo di 10,1 mm così noi iniziamo a lavorare chiaramente stiamo parlando di una chirurgia dinamica quindi stiamo parlando di una chirurgia che porta la manualità del paziente ad aggiustarsi rispetto ad un mirino in questo caso abbiamo una inclinazione che è leggermente sulla destra e quindi in questo caso abbiamo una posizione corretta della fresa ma l'angolo in questo caso supera i 4 gradi con una distanza della punta della fresa di 3,2 mm dall'apice dell'impianto progettato quindi in questo caso il clinico andrà ulteriormente a correggere in modo dinamico la sua posizione e in questa fase vediamo che siamo a 0,8 mm dall'apice dell'impianto continua la sua osteotomia quindi il giallo e il countdown indica al clinico che sta per arrivare in apice quando lui arriverà in apice dell'impianto riceverà un segnale acustico e su questo segnale appunto lui lavorerà per terminare la sua osteotomia segnale acustico e rosso è chiaro che quando noi andiamo a operare questa osteotomia ripeto ci possono essere dei movimenti ma questi non sono movimenti di ovalizzazione del sito osteotomico perché qui stiamo parlando di dimensioni submillimetriche qui il centro abbiamo visto è 0 poi abbiamo un primo anello di 1 mm 2 mm cioè abbiamo in realtà un raggio di 2 mm e mezzo quindi un diametro di 5 mm che viene rappresentato appunto da un target da un milino che nella visualizzazione dello schermo può avere un diametro di anche 15 cm quindi dobbiamo pensare che quando noi andiamo a fare l'osteotomia questa osteotomia e i movimenti che noi imporniamo nella nostra mano sono movimenti submillimetrici di cui noi diventiamo finalmente consapevoli chi lavora a mano libera in realtà ovalizza il sito osteotomico ma senza rendersene conto con delle dimensioni che sono nettamente maggiori rispetto a quelle indicate dal sistema di navigazione quindi quali sono i protocolli che vengono in qualche modo ad essere utilizzati i protocolli sono sia per pazienti parzialmente dentuli che per pazienti totalmente dentuli nel caso del paziente parzialmente dentulo partiamo, abbiamo detto, da una combimma e qui abbiamo sostanzialmente due opzioni o la combimma è presente nello studio e allora possiamo applicare il protocollo di registrazione che abbiamo chiamato impression registration dove in fase di combim il paziente indossa un dispositivo radiopaco con dei cilindri radiopachi in titanio e quindi sostanzialmente si effettua la scansione combim con questo dispositivo in bocca questo dispositivo abbiamo detto avere la caratteristica di permettere una registrazione automatica effettuata dal software cioè è il software che quando va a leggere i dati d'ICOM identifica questo dispositivo radiopaco e lo va a registrare sul dato che legge direttamente dalla combimma questa operazione viene effettuata automaticamente dal software e non si necessita nessuna attività da parte del chirurgo viceversa se invece abbiamo la necessità di riferire il paziente ad un centro radiologico esterno è evidente che in questo caso posizionare un dispositivo in modo corretto in bocca al paziente può anche essere in qualche modo non necessariamente efficace allora si può preferire di andare a lavorare con una tecnica di registrazione che abbiamo chiamato appunto essere tracing cioè il paziente in questo caso fa un'attacca normale cioè standard non ha nulla in bocca l'unica caratteristica è il requisito di avere le due arcate separate e una volta che viene fatta questa combim vengono esportati i dati d'ICOM e vengono caricati direttamente sul software si farà la progettazione ma prima dell'atto chirurgico occorre fare la registrazione e come viene questa registrazione? L'abbiamo visto prima attraverso un tastatore che non è più nemmeno che uno scanner a contatto il chirurgo va a disegnare almeno tre volumi in bocca al paziente il famoso tripode ed sarà il software automaticamente a registrare questi tre volumi sul rendering 3D del paziente questa operazione ancora una volta prende il nome di registrazione e ci permette di qualificare la combim come buona cioè come rappresentativa al 100% dell'anatomia del paziente questo tipo di tecnica può essere utilizzata non solo se io devo riferire il paziente all'esterno a un centro radiologico esterno ma anche se semplicemente arriva in studio un paziente che ha già una sua combim e chiede al clinico di lavorare con questa combim perché non vuole lavorare non vuole fare una seconda combim questa tecnica di registrazione ci permette di fare questo in entrambi i casi sia nel caso dell'impression registration che nel caso del tracing è necessaria fare la progettazione e questa progettazione va fatta utilizzando lo stesso software della chirurgia navigata che ha anche una console di progettazione di pianificazione che ha le caratteristiche di essere una console completa perché noi andremo a importare non solo i dati d'ICOM ma anche i dati STL del progetto protesico del works-up che magari il tecnico ha realizzato e ci ha dato un file STL che noi andremo ad importare direttamente sul software per andare a studiare quelli che sono gli spessori della mucosa le altezze del piano occlusale e anche l'estetica e la funzionalità del paziente e quindi permetterci una volta che identifichiamo anche le zone anatomico a rischio di effettuare una progettazione che sia protesicamente guidata a quel punto possiamo inserire i target ottici sul paziente che abbiamo visto essere o per la mandibola o per la mascella inserire i target ottici anche sul contrangolo e quindi arrivare a fare la calibrazione dell'asse e la calibrazione della lunghezza della fresa dopo facciamo la nostra testa di accuratezza e una volta fatto il test di accuratezza possiamo iniziare a fare la nostra ostiotomia in modalità dinamica questo per quanto riguarda il paziente parzialmente dentulo per quanto riguarda il paziente totalmente dentulo il paziente totalmente dentulo va in qualche modo preparato attraverso l'inserimento di mini viti che in qualche modo vanno a vicariare i denti lo smalto dei denti perché sono radiopache quindi ci rappresentano un elemento radiopaco che noi andiamo ad inserire nel mascellare i dentulo e abbiamo un mock-up di quello che è il progetto protesico finalizzato insieme al tecnico di laboratorio questo mock-up viene indossato dal paziente in fase di scansione con BIM se vedete questo mock-up ha dei bottoni radiopachi perché noi andremo a registrare il file STL utilizzando questi bottoni radiopachi quindi in sostanza facciamo la con BIM del paziente con questi elementi preliminari già presenti nella con BIM quando noi andremo a prendere e a leggere la con BIM questo è quello che vedremo vedremo le mini viti in questo caso nell'inferiore abbiamo quattro mini viti a livello crusale ma le mini viti possono essere posizionate anche a livello vestibolare e vediamo anche questi bottoni questi bottoni sono vedete i bottoni non sono altro che i bottoni del mock-up protesico quindi radiologico della protesi radiologica che sostanzialmente il software è in grado di andare a leggere su quei bottoni vedete andiamo a registrare il file STL e quindi attraverso questa registrazione il clinico ha tutte le informazioni necessarie cioè ha il piano occlusale e quindi sostanzialmente il volume e la dimensione verticale dei denti lo spessore della mucosa e l'anatomia del paziente con queste informazioni il clinico andrà a fare la sua progettazione in fase chirurgica ecco che utilizzeremo queste mini viti così come abbiamo utilizzato lo smalto dei denti e cioè come marker radiopaco presente nella CUMBIM quindi con il nostro tastatore andremo a toccare la testa di queste mini viti e attraverso questa registrazione andremo a qualificare la CUMBIM una volta qualificata la CUMBIM senza soluzione di continuo andiamo nell'atto chirurgico e quindi attraverso l'atto chirurgico dobbiamo preliminarmente andare a inserire dei target ottici sul paziente e sullo strumento di lavoro e quindi in questo modo poter avere una visione in tempo reale di quello che è l'atto chirurgico il tutto utilizzando un sistema che in fase di riposo questa è i due modelli presenti sul mercato ma sono appunto modelli che hanno un ingombro dal punto di vista anche organizzativo di spazio molto ristretto e quindi questo permette una gestione ergonomica degli spazi molto efficace la caratteristica di questa chirurgia navigata è quella di avere anche dispositivi diversi qui abbiamo un dispositivo su ruota che quindi permette la versatilità di spostare il dispositivo da un riunito a un altro e dall'altra parte invece abbiamo un dispositivo fisso che viene montato su parete o direttamente sul soffitto o direttamente viene montato sul riunito del paziente su cui sia il paziente l'approccio nella chirurgia navigata è un approccio modulare per cui ci sono dei moduli che possono essere aggiunti a quella che è la soluzione di base in plantoprotesica e che possono essere anche aggiunti successivamente per esempio la motorizzazione delle telecamere per esempio il modulo per la chirurgia piezo il robo guard che permette in qualche modo di facilitare l'esercizio di andare e rimanere al centro di quel minino la calibrazione automatica sia della fresa che dell'impianto piuttosto che il modulo appunto di intelligenza artificiale per la segmentazione piuttosto che non il modulo per la fotogrammetria cioè il posizionamento certo degli impianti post inseriti dopo la chirurgia per quanto riguarda ecco un esempio del manipolo piezo ancora una volta come facciamo a comunicare al software che stiamo utilizzando un manipolo piezo ci servirà il calibro utilizzando il calibro e posizionando la manina del piezo in una posizione specifica sul calibro stesso stiamo comunicando al software l'uso della manina e il software è in grado di quantificare non solo l'altezza di quella manina ma anche il diametro della manina e quindi di farci vedere poi in tempo reale come funziona il sistema il sistema ha una visione indiretta come abbiamo detto un posizionamento ore 11 12 o 13 ma esistono dei dispositivi e qui ne vediamo uno di questi di alta qualità che permettono di riportare in visione diretta il lavoro del chirurgo quindi in questi dispositivi il chirurgo di fatto ha la possibilità di visualizzare direttamente il paziente ma di avere anche sullo stesso visore le immagini del mirino e quindi a rimanere all'interno di questo mirino stesso da un punto di vista per quanto riguarda la formazione chiaro che stiamo parlando di uno strumento tecnologico e quindi uno strumento che ci permette un avanzamento nella qualità del lavoro ma che richiede una curva d'apprendimento questa curva d'apprendimento è facilitata da una società che è la Dynamic Navigation Society è una società scientifica che raccoglie tutti gli utilizzatori della chirurgia navigata al cui interno esistono dei trainer clinici che facilitano l'uso di questa tecnica e permettono a ciascun clinico di accelerare la propria curva di apprendimento e sono corsi che vengono gestiti sia a livello preliminare che a livello avanzato su tematiche di chirurgia avanzata come potrebbero essere l'inserimento di impianti pterioidei nasali o zigomatici effettuati sempre utilizzando la chirurgia navigata questa è in sostanza è la fine della mia presentazione quindi io ringrazio a tutti ringrazio della vostra attenzione e per qualsiasi domanda o per qualsiasi dubbio avete in sovrapposizione il mio indirizzo e-mail e il mio numero di telefono cellulare grazie ancora per chi ha avuto la pazienza e l'interesse di starmi ad ascoltare fino a questo punto grazie e buon lavoro a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti